La stagione riparte da Cardiff, dove dopo la finale sono state dette tante cose che neanche la migliore fantasia di un grande registro del film poteva avere in testa e da quella partita lì dobbiamo preparare una grande stagione che sicuramente non sarà facile perché le pretendenti allo scudetto sono molto di più. C'era una stagione e un campionato molto bello, così come l'anno scorso, dove la Roma e il Napoli hanno fatto il record di punti nella loro storia. Mi ha colpito sicuramente il peso della società e del gruppo che c'è nello spogliatoio, quindi farò tutto il possibile per meritarmi e per guadagnarmi la loro fiducia e il loro rispetto e non mi accontenterò fin quando non li vedrò contenti di avermi nel loro gruppo. Quella di domani alla fine non sarà namichevole, nel senso che queste partite qua bisogna sempre affrontarle con lo spirito giusto perché si rischia solamente di fare brutte figure. Grazie per la visione!